A tutti capita di avere un piccolo incidente con la lavatrice Fai il lavaggio, aspetti, stendi e ti accorgi che è tutto di un colore diverso Qualcosa è andato storto Non ti disperare perché noi di Mamma Style oggi ti faremo vedere un trucchetto geniale Che hanno sempre usato le nostre nonne Sigla! Ciao lettori elettrici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video Se hai avuto questa brutta esperienza significa che hai sbadatamente inserito un capo Il cui colore non si era legato bene sui tessuti Per evitare incidenti simili in un futuro Meglio separare sempre gli indumenti chiari da quelli scuri E se hai appena acquistato un vestito e vuoi lavarlo Non farlo insieme ad un bucato dal colore diverso Perché proprio quando gli abiti sono nuovi Le fibre dei tessuti non riescono ancora ad imprigionare bene il colore Piuttosto fai fare un lavaggio breve in lavatrice Oppure lavalo a mano in modo che scarichi il colore in eccesso Invece per rimediare ad un bucato scolorito Se è bianco Lascialo in ammollo in acqua calda e bicarbonato per circa un'ora Poi risciacqua e rimettilo in lavatrice per un altro lavaggio Non lasciare mai asciugare il bucato che si è macchiato di altri colori In quanto è proprio il processo di asciugatura che sigilla il colore sui capi Se hai a che fare con panni e colorati Mettili subito di nuovo in lavatrice E segui le indicazioni di lavaggio presenti sull'etichetta Come sempre se ti va lascia un like e iscriviti al nostro canale E segui le indicazioni di lavatrice